I commercianti del Centro Storico si preparano a Natale, già cominciano a vedersi le prime vetrine addobbate a festa. La speranza è in un po' più di affari e nella collaborazione con il Comune dell'Aquila, con il quale è iniziato già un percorso. C'è chi vorrebbe le luminarie per tutto il corso e chi chiede ancora una volta più parcheggi. Ci stiamo carenzando, almeno io, da parecchio tempo, da subito dopo i morti, e sperando di vendere un po' tutte queste cosettine che abbiamo qui al negozio, sia per l'addobbo dell'albero e sia come regali. Ma noi non chiediamo nulla, vorremmo soltanto che anche quest'anno ci fossero gli addobbi, le luminarie sopra nelle vie centrali della città per creare questa atmosfera natalizia, non come le grandi città, ma una parvenza. Ma mi sa che quest'anno salteamo. Ci stiamo preparando abbastanza bene, noi stiamo operando soprattutto fuori perché l'Aquila, il centro, un po' risente di questa crisi, un po' i sottoservizi, un po' i danni della vecchia amministrazione. Adesso vediamo la nuova, noi siamo fiduciosi.